La morte non è niente, sono solamente passato dall'altra parte e come fossi nascosto nella stanza accanto, così recita un celebre brano di Henry Scott Holland ed è così che familiari e colleghi dell'assistente capo Tiziano Granata e di Rino Todaro, sovraintendente capo della polizia giudiziaria, sentono ancora forte e viva la presenza dei due eccezionali agenti. Entrambi in forza al commissariato di Sant'Agata Militello sono prematuramente scomparsi un anno fa. Una morte che nell'immediatezza dei fatti sollevò dubbi quella dei due poliziotti che indagavano sulle agromafie, avvenuta a poche ore di distanza l'una dall'altra, che portò le procure di Patti e Messina ad aprire due fascicoli e chiedere l'esame autoptico sui loro corpi. Un'incredibile quanto dolorosa coincidenza confermata dalle autopsie. Il rigoroso silenzio stamattina amici, colleghi e familiari si sono raccolti nella piccola cappella del castello Gaiego a Sant'Agata di Militello per celebrare il loro ricordo la messa, ufficiata dal cappellano della Polizia di Stato di Messina. Alla presenza del primo dirigente della Polizia di Stato, Nicola Spampinato, vicario del questore, di Nicola Carmelo Aliotto, vicequestore aggiunto del commissariato di Capodorlando, attuale dirigente del commissariato di Sant'Agata, e del vice commissario Concetta Pierrotti. A portare il saluto del sindaco Bruno Mancuso c'era l'assessore Maria Ilaria Puleio. Dopo la celebrazione, una sala del castello ha ospitato la cerimonia di consegna ai familiari della 35esima edizione del premio Alata Solerzia, riconosciuto dal Movimento Nuova Presenza Giorgio Lapira ad entrambi gli agenti, e di due ulteriori premi del Ministero dell'Interno a Tiziano Granata, per ricordare lo straordinario contributo che i due uomini dello Stato hanno dato al territorio nebroideo con la loro professionalità. È una giornata che ci consente di stringerci attorno ai familiari e attorno a due colleghi che non sono più fra noi, ma che hanno lasciato un'impronta vera di professionalità, di capacità operative. Tiziano e Rino sono ancora vivi, ancora presenti nel loro ufficio, nel loro commissariato. Io ho il rancore di non averli potuti conoscere più approfonditamente, però li ho conosciuti tramite i colleghi, perché quando vengo al commissariato di Sant'Agata non si fa altro che ricordare come operavano Tiziano e Rino, cosa facevano, come avevano condotto brillantemente indagini e come erano amati da tutti i loro colleghi.